mi direi 65 che dire questa è una cosa scontata l'hanno fatta in tanti quindi che la faccia io in questo momento è una cosa superflua però ci sono dei momenti in cui veramente bisogna ringraziare ringraziare ogni giorno persone che si alzano salutano i loro cari e diciamo la verità non sanno neanche se rientrano perché nel qual caso risultassero positivi non farebbero rientro a casa quindi ogni mattina il saluto ai figli potrebbe essere l'ultimo per svariati giorni potrebbe anche essere l'ultimo sguardo che danno al loro marito ai loro figli o anche al loro cane al loro gatto alla loro madre al loro padre che magari vive con loro e questo non deve essere mai dimenticato sono i medici da i grandi che coordinano gli altri a cascata a quelli via via fino a quelli che comunque sono all'interno degli ospedali e svolgono comunque un lavoro all'interno di queste strutture vivendo ogni giorno questa situazione drammatica drammatica perché mancano i posti perché non sai come dare conforto agli ammalati perché sentirsi mancare l'aria deve essere una cosa tremenda sentirsi soffocare deve essere una cosa tremenda e alle volte sono le uniche persone viste da questi ammalati le ultime cose viste da questi ammalati che poi muoiono e che cercano magari con lo sguardo un viso conosciuto e non hanno non potranno farlo più quindi a queste persone va dato io non li considero eroi alle volte in Italia si abusa di queste parole noi siamo un popolo che tende sempre a a ingrandire le cose sono persone che stanno facendo il loro dovere stanno andando oltre il loro dovere qualcuno poi le chiamerà può chiamarle eroi sono brave persone che fanno il loro mestiere quello per cui sono state pagate anche se nei loro contratti non c'era magari scritto che dovessero anche rischiare la vita persone che tutte le mattine si alzano e entrano in battaglia un'altra volta e al di fuori il mondo viaggia su parametri idioti si voci nello sport si parla di l'olimpiade l'olimpiade il campionato di calcio sembrano mondi lontani se la gente si annoia a casa se ti annoi a casa con la playstation i popcorn disney plus magari ti leggi anche un fumetto un libro sei al caldo sul divano come me io mi ci metto tra quelli con i tuoi cari in casa magari con gli animali con i tuoi animali vicini ma noi riusciamo a lamentarci riusciamo a lamentarci io credo che delle volte dovremmo farci veramente un esame di coscienza e vergognarci ho sentito gente protestare perché internet si internet fa schifo ma ho visto gente con 20 mega protestare quando io ne ho uno e due quando va bene alle volte veramente bisognerebbe fare un giro fatevi un giro magari finita tutta questa cosa fatevi un giro se magari non siete amanti delle persone fatevi un giro nei canili dove ci sono gli animali abbandonati se invece non vi piacciono gli animali fatevi un giro negli ospedali andate a vedere i reparti di oncologia gli hospice dove ci sono i malati terminali c'è gente che cerca di dare aiuto anche senza essere pagata magari una parola di conforto a un familiare andate a vedere i posti dove ci sono i bambini ammalati a malati terminali sono bambini esattamente come gli altri che necessitano di giocare di ridere di colorare un album con i pastelli e in tutto questo mi sembra veramente assurdo delle volte io capisco la gente vuole distrarsi mi sembra veramente che ci siano dei mondi che vivono completamente separati mentre siamo parte tutti dello stesso mondo c'è il malato vive di fianco a che si lamenta perché gli funziona male youtube quell'altro vorrebbe avere problemi con youtube piuttosto che essere malato lo so è difficile mettersi nei panni altrui è facile fare il filosofo non voglio fare il filosofo anch'io mi incazzo per delle cose assurde ma delle volte bisognerebbe fermarsi e riflettere fermarsi e riflettere delle volte si è fortunati soltanto ad alzarsi la mattina mettersi sul caffè con latte e mangiarsi una brioche questa forse è già una grande vittoria che tanti non hanno e poi se apriamo la parentesi di paesi dove non c'è l'acqua non c'è l'elemento primario per sopravvivere ci si sente veramente ridicoli ridicoli perché tutti siamo di passaggio su questa terra e tutti meriteremmo di vivere in maniera adeguata e purtroppo non lo si può fare che dire in questo momento sono vicino alle persone che hanno perso qualcuno in questo marasma generale a chi ha gente malata e vive giorni disperati alla gente degli ospedali che vive in un film horror che non ha mai fine e nonostante mi manchino tante cose che non sto a delencare mi sento veramente fortunato ad alzarmi e cazzeggiare col computer anche se magari ho un un megabyte e basta è sufficiente magari a dire due stronzate a qualcuno che forse non ti ascolterà mai un forza agli italiani cercate di non farvi vincere dalla disperazione cercate di resistere un grande abbraccio a tutti i medici e a tutti quelli che stanno dando di tutto e di più un forza Bergamo Brescia e tutto il nord Italia che combatte la LUC 65 5 a tutti i medici Grazie a tutti.